Quando i bambini fanno oh che meraviglia che meraviglia Ciao a tutti ci vediamo il 9 giugno a Pineto in provincia di Teramo dove terrò una masterclass aperta a tutti organizzata dalla Soundlight Music dalle 14 alle 18 e poi ci vedremo la sera alle ore 21 presso il polifunzionale di Pineto dove canterò i bambini fanno accompagnato dai bambini per partecipare seguite queste informazioni qui sotto e quindi ci vediamo il 9 giugno a Pineto in provincia di Teramo ciao